Si è costituita Trisulti Bene Comune, una rete di associazioni che ha come obiettivo la restituzione della certosa di Trisulti al suo territorio e alle finalità che sono proprie della sua storia. La decisione segue la sentenza del Consiglio di Stato che dopo aver revocato la concessione della certosa alla DHAI, che l'aveva ottenuta attraverso una gara di cui sono state censurate dal massimo organo giudicante della giustizia amministrativa, in congruenze e vere e proprie contraffazioni dei requisiti necessari alla partecipazione, ha riconosciuto alle associazioni del territorio il ruolo di soggetti illegittimati a rappresentarne sotto tutti i profili le stanze e gli interessi. Le associazioni, come si ricorderà, si erano costituite nel giudizio a supporto della revoca disposta dal MIBAC, prima presso il TAR e poi presso il Consiglio di Stato, e oggi intendono dare continuità alla loro iniziativa di controllo e tutela esercitata in nome di tutti, con una rete che le coordinerà e ne rappresenterà l'attività, diventando così l'interlocutore unico nei rapporti con le istituzioni locali e nazionali. La certosa è e sarà così il perno centrale di un ampio impegno alla costruzione di una nuova idea di cultura, di turismo, di economia e fruizione dei beni comuni che sia sostenibile, inclusiva e solidale, con una grande attenzione alle vocazioni delle comunità e dei territori. Daniela Bianchi, di Comunità Solidali, è stata eletta presidente della rete. Collaborerà con lei un comitato direttivo costituito dai rappresentanti delle dieci associazioni fondatrici che resteranno in carica per tre anni.